Nel corso della quarta serie Luciano Russo passa dalle volanti all'investigativa e da quel momento si ritrova a lavorare fianco a fianco ad Edoardo Valle e sappiamo che tra i due non corre assolutamente buon sangue perché Edoardo aveva scoperto che Luciano picchiava sua moglie Miriam, Edoardo che non aveva denunciato Luciano aveva deciso di aiutare Miriam a fuggire, a uscire da quell'incubo e cosa che alla fine riesce anche a fare, fatto sta che mentre aiuta Miriam si innamora di lei e tra i due nasce una relazione. Poi Luciano viene a sapere tutto quanto proprio dallo stesso Edoardo e da quel momento tra i due gelo totale. Fatto sta che ora lavorando entrambi all'investigativa la situazione non è assolutamente facile da gestire, tenere lontano i problemi personali dal lavoro non sempre è una cosa semplice e infatti ne abbiamo avuto la riprova proprio in questo caso perché Luciano ed Edoardo sono venuti anche le mani diverse volte, si sono picchiati più volte quindi insomma veramente era diventata una situazione ingestibile. e Luciano che nel corso della quarta serie per fermare Maria Coppola spara a Rita Pintauro che alla fine muore e quindi Luciano uccide Rita Pintauro e qui c'è la vendetta di Donna Rosalba insomma Rita era sua figlia e ovviamente ci si aspettava la risposta di Donna Rosalba con Maria Coppola che ancora in fuga, Maria Coppola che sa chi ha sparato e chi ha ucciso Rita Pintauro appunto Luciano Russo. Fatto sta che nel settimo episodio della quarta serie che questo è uno degli episodi più belli secondo me che ci sono stati nella quarta serie uno dei miei episodi preferiti, in questo episodio Luciano scompare. Luciano è stato visto prima ha avuto una litigata pesantissima con Edoardo Valle perché c'era stata una un'operazione di polizia durante la quale Luciano è dovuto poi intervenire per fermare insomma due malviventi e mentre invece Edoardo si trovava in auto, i due erano in collegamento fatto sta che quando Luciano ha detto a Edoardo di scendere dalla macchia e di venire ad aiutarlo Edoardo ha ritarrato parecchio, questo perché per i miei dei suoi mal di testa. Edoardo non in cui lui ha problemi insomma forti, forti mal di testa e quando poi gli è passato è riuscito a scendere dall'auto, è intervenuto salvando Luciano che si è ritrovato da solo contro due uomini e questi due che insomma lo stavano picchiando, si stavano andando giù pesante parecchio. E ovviamente poi arriva Edoardo che spara un copo in aria e così insomma riesce a risolvere la situazione, però Luciano se la prende con Edoardo, dice ma quanto tempo ci hai messo? Edoardo gli ha risposto non ti ho sentito, ah non mi hai sentito, fatto sta che loro la prova dell'auricolare avevano fatta poco prima e tutto funzionava bene, quindi Luciano non si è bevuto assolutamente questa risposta che gli ha dato Edoardo. Fatto sta che a rientro Sant'Andrea Edoardo steneva su in palestra, quella che nella sala che sarebbe dovuta diventare la palestra, Luciano lo raggiunge lì e dice com'è questa storia della ricolare che non funziona? E Edoardo dice non funzionava, ma Luciano dice ma come se l'abbiamo provato poco prima e da lì inizia una lite furiosa tra i due con Luciano che dice guarda caso sempre quando lavori con me ci sono dei problemi e Luciano che comincia a urlare in faccia a Edoardo dicendo che non mi frega niente del rapporto e fatto sta che a un certo punto Edoardo colpisce con un pugno Luciano e da lì lite furiosa, i due vengono alle mani, interviene Alfio per separarli e lui alla peggio perché viene colpito a naso e quindi insomma c'è stata questa lite furiosa con poi Luciano che è uscito dal commissariato veramente imbestialito, lì arriva Jenny che lui cioè Luciano aveva appuntamento con Jenny ma i due litigano pesantemente e salgono in macchina Luciano chiede a Jenny di uscire, di scendere dall'auto ma niente, Jenny rimane lì e i due vanno via in auto, scena che viene vista da la Silvia Esposito, fatto sta che poi Jenny viene ritrovato morto, Luciano non si trova e sembra che tutte le prove ne sia contro di lui perché Luciano appunto non si riesce a trovare, poi viene ritrovata la sua auto e viene trovato del sangue sul tappetino sangue che appartiene proprio a Jenny e l'auto ritrovata vicino ad una stazione ferroviaria. Ovviamente i nostri cominciano ad indagare e a un certo punto Edoardo salta su dicendo c'è anche un'altra ipotesi che dobbiamo valutare, quella che nessuno di noi forse ha coraggio di dire, cioè che ad uccidere Jenny sia stato proprio Luciano e Pietro gli dice una cosa sta dicendo, guarda che è impossibile che Luciano abbia fatto una cosa del genere e lì Edoardo dice a tutti i presenti che Luciano picchiava sua moglie e che quindi da un uomo che picchiava la moglie ci si può aspettare di tutto. Ovviamente Pietro, Ramaglia cadono dai Louvre e dicono ma come picchiava sua moglie? Quindi sono rimasti tutti quanti scioccati da questa cosa, Edoardo che dice io comunque referti a casa della moglie quindi se volete ve li faccio vedere e fatto sta che Pietro non crede assolutamente che Luciano possa aver fatto un gesto simile, possa aver ucciso Jenny mentre invece Edoardo sembra insomma marcare parecchio questo fatto, tant'è che poi a un certo punto c'è anche stata una discussione in ufficio di Caffasso tra Pietro e Edoardo che Edoardo continuerebbe a dire il suo concetto che secondo lui è stato Luciano mentre invece Pietro sostiene il contrario, anzi dice se fosse stato Luciano, cioè se fosse andata come dici te, te lo dico io, Luciano si sarebbe costituito, non sarebbe scappato via, si sarebbe costituito. Fatto sta che poi arriviamo a litigio che c'è stato proprio tra Pietro ed Edoardo, Pietro raggiunge Edoardo che si trovava nel suo ufficio e gli dice te stai dando via vero? Non devi dirmi nulla? E Edoardo dice sì devo chiederti scusa perché alla fine avevi ragione tu, non è stato Luciano perché poi nel corso del Nagio e davanti e Mari ha praticamente capito che non poteva essere stata una persona sola a uccidere questo Jenny ma dovevano essere almeno in due uomini e quindi da lì diciamo che cadono le accuse e i sospetti su Luciano. Fatto sta che Pietro dice non è per questo guarda io mi riferisco alla scazzottata che c'è stata ieri tra te e Luciano e Edoardo si gira verso Pietro dicendo ma te l'ha detto Alfio? Sì me l'ha detto Alfio ma non prendetela con lui perché io ho visto Luciano molto nervoso, ho chiesto ad Alfio che cosa stesse succedendo e lui me l'ha detto quindi non andartene a prenderla con lui. Fatto sta che Pietro comincia a fare delle domande ad Edoardo e dice io vorrei sapere che cavolo sta succedendo tra te e Luciano e per sua moglie è vero? E Edoardo insomma dice sì e poi che cosa ti aspetti da un uomo che ha piccato la moglie potrebbe avere veramente aver fatto un gesto simile, aver ucciso una persona. Fatto sta che Pietro prende le difese di Luciano in qualche maniera ma meno dicendo ma se ci fosse stato a posto di Luciano per dire Sergio o un altro dei nostri avresti ragionato allo stesso modo oppure avresti pensato che in realtà non c'entrava nulla con questa storia. Edoardo però batte sul fatto guarda che Luciano è un violento, lui picchiava sua moglie e Pietro dice perché tu invece che cosa hai fatto ieri? Ci sei andato giù pesante pure tu o sbaglio? E quindi c'è stata questa lite molto pesante tra Edoardo e Pietro ed è una cosa rara perché i due non hanno mai avuto particolari problemi. Fatto sta che poi Pietro dice io in questa storia non ho mai messo bocca che dice che non me ne accorga delle attriti che ci sono tra voi due delle tensioni ma non ho mai messo bocca perché comunque sul lavoro le cose andavano bene, andavano avanti ma adesso ora è diverso. Tutto questo per via della moglie tu ci stavi insieme a questa qui e Edoardo insomma alla fine resta in silenzio però Pietro dice dimmi quanto è durata questa storia, è durata fino a quando ha deciso di non lasciare pure me. E quindi insomma Edoardo svuota il sacco completamente quindi ha rivelato che Edoardo ha piccato la moglie, ora Pietro sa anche che Edoardo è stato, è stato con Miriam e quindi questo è il motivo anche per dei, questo è il vero motivo per insomma delle varie viti proprio tra Edoardo e Luciano con Edoardo che chiede a Pietro, lo prega di esonerarlo, di toglierlo da questa indagine perché lui ha sperato, ha desiderato che Luciano fosse colpevole, fosse l'assassino e quindi è giusto che venga tolto da questa indagine ma Pietro mi dice di no, no perché Pietro perché Luciano non si trova e io in questo momento ho bisogno di tutti anche di te quindi adesso vattene a casa a dormire che domani ci aspetta una giornata pesante. E quindi si conclude così questa discussione ed è stata insomma una scena particolare che mi ha colpito proprio perché tra Pietro e Edoardo non ci sono mai stati motivi di discrezio e quindi vedere questi due personaggi litigare insomma ci ha lasciato un po' spiazzati. Io intanto voglio chiederti se ti ricordi di questa scena precisa, che cosa ne pensi e cosa ne pensi anche del fatto che Edoardo abbia rivelato praticamente a tutto a Sant'Andrea che Luciano picchiava la moglie, oltretutto durante la discussione e Pietro dice ma perché non l'hai denunciato, avevi scoperto tutto, perché non l'hai fatto. Edoardo gli dice perché ho sbagliato, ho sbagliato allora e ho sbagliato adesso a sperare che fosse lui l'assassino. Quindi veramente abbiamo visto un Edoardo un po' in confusione qui in questa situazione. Ti invito a iscriverti al canale YouTube, lo vuoi essere la vera squadra, per rimanere aggiornatissimo sui prossimi video in uscita, sulla squadra, su un post al sole, ma anche su tanti altri argomenti, ti raccomando. Nel frattempo lascia i tuoi commenti in merito a tutte le varie, in merito a questa scena in particolare di cui ho parlato nel video, a questo episodio. Inoltre per quanto riguarda il canale puoi anche abbonarti e una volta abbonato potrai trovare tanti video inservati solo ed abbonati. E tra diversi video di esposizione trovi molti riguardanti proprio la squadra. E a questo punto ci vediamo al più presto con un nuovo contenuto. Ciao!